non ho neanche iniziato a parlare boni chi è? chi cazzo non è? tenjip! grazie mille ed è così che inizia anche questa serata dove voi potrete scegliere dove voi avrete il potere decisionale la democrazia finta democrazia che è la vera democrazia quella finta e voi potete scegliere tra due giochi tra due giochi uno lo conoscete l'altro lo conoscerebbe esterette adesso a breve vi faccio vedere il trailer incredibile! oggi è stata una giornata di merda perché abbiamo cambiato il divano quindi è da stamattina perché con Bartolini voi sapete, conoscete Bartolini quelli che fanno le consegne ora io sto per rovinarti Bartolini quindi non verrai mai sponsorizzato anche se non credo che Bartolini si faccia sponsorizzare da qualcuno su Twitch magari parliamone perché no dal fondo i soldi sono soldi dovevano venire alle 2 indovinate a che ora sono venuti alle 2 del pomeriggio indovinate a che ora sono venuti a portare il divano un divano un divano dai, sparate un orario alle 18 alle 2.01 non sono così fiscale alle 2.05 alle 17 alle 18 no, sono venuti alle 8 del mattino alle 8 del mattino ho dovuto poi rispondere al telefono perché il citofono è rotto nel senso che possono citofonarmi possono rompermi i coglioni ma io non posso rispondere quindi pronto pronto ma non mi sentono quindi ho dovuto poi rispondere alla chiamata del tizio che mi ha risposto appunto dicendomi è arrivato il divano proprio mi ha detto così ma non si è neanche presentato è arrivato un divano ci sono due bancali avete presenti i bancali quelli di cemento shit e niente quindi mi sono ritrovato alle 8 del mattino un divano qua da smontare da spellare e le scatole hanno praticamente occupato tutto quanto il salotto poi discarica mica discarica ma non sto mica certo qui adesso a raccontarvi le disgrazie in discarica dove mi sono fatto male il dito e mi si è infilata una scheggia esattamente qua tra l'unghia e sotto l'unghia del pollice non sto mica a raccontarvi questo non sto mica a raccontarvi che il simpatico ha detto la guardia giurata che era presente lì ci ha fatto parcheggiare a 200 metri col furgone perché non si può senza un furgone noleggiato entrare dentro un'unne scarica e presentare quello che poi è come si chiama la carta di noleggio non capisco per quale motivo non si può entrare in un furgone quindi abbiamo dovuto farci a piedi 150 metri con un divano sotto 40 gradi non sto mica a spiegarvela sta cosa qui figurati nella confusione nel caos perché tutti quanti gli stronzi hanno deciso di tornare adesso qua in Lombardia a Milano sono tutti tornati a lavorare c'erano circa 30 macchine parcheggiate fuori dalla discarica che meraviglia un'aria poi che non vi dico non sto mica a raccontarvi questo vi racconto più che altro le cose positive basta non ce ne sono di questa giornata fatto sta che comunque abbiamo un divano nuovo che io ho già macchiato ragazzi capita succede capita e funziona così il divano lo devi macchiare perché anche serve è una firma una firma che dai è un divano enorme ehm perché stiamo parlando di divani stasera in live bestiacce dovete scegliere tra mortuari assistant il gioco ormai che conoscete tutti quanti dove bisogna sbucciare i cadaveri e cercare di stirpare lo demonio da essi oppure Krampus is home un gioco natalizio perché? perché io non vedo l'ora che arrivi il fottuto inverno io mi sono rotto i coglioni del caldo e della gente che ride quindi voglio il freddo eh Krampus is home dovete scegliere ora vi faccio vedere il trailer e voi sceglierete tra i due va bene eh perché mi va di cambiare in questi giorni che sono solo tre chi minchia è Nemo sei fuori di testa tutti quanti voi Fabi Aria Matteo Mazzaro Sofia Hart e Daniel sapete che ringraziare Rotuval Halla grazie Nemo grazie anche Calzino grazie anche Majestis grazie anche ExpG Rotuval Halla bestiaci a tutti quanti voi grazie anche Electric Cleo ho detto giusto 5 mesi UE grazie Red Fox e poi Tengi che l'abbiamo salutato prima grazie mille bestiaci grazie per il contributo intanto vi saluto Matrix Nule Daniel fermi fermi Red Andrea Fudge Spirit Spirit ma Spirit non è il cavallo che muore Horizon Bin io lodo il sole Fox Giulia Owox Gigi Sovuo è proprio scritto così Sara Crash Noemi Amy Moon Dark Accio Asector Aia Sostefania Jaco poi abbiamo Lupen perdonatemi Mika La Sedia Bin di nuovo Isaac Chaos poi A Random Girl Angelico Queepy Zero Optm poi qualcuno di nuovo l'ultimo dai qualcuno di nuovo ragazzi basta con sta cazzata tanto siete tutti quanti benvenuti nella casa del signore dipende se il signore girano i coglioni l'ultimo qualcuno di nuovo che non ha mai scritto fe eh qualcuno di nuovo Alex Clown ciao bestiaccia benvenuto è un piacere oh vi faccio vedere il gioco non volete vedere il trailer vabbè ma saluto anche voi dai I'm Frost ma porca puttana state fermi I'm Forsaken e Cocu Cap Cocu Capibara Cocu che cazzo di animale è si sta estinguendo beh è possibile dipende forse dal nome ehm ci siamo Capibara è quel ratto grande è quello che si mangiano in Cile ragazzi sono altri popoli sono altre terre ci sono altri animali altri sapori io proverei prima si prova poi si giudica no? cioè vai in un posto assaggi il cibo del posto mangiano anche i com'è che si chiamano i criceti solo che li hanno i criceti grossi così e le cavie solo che li hanno le cavie grosse così e insomma vabbè ma è cultura visna il cibo è cultura siamo ciò che mangiamo se mangiamo merda allora quindi vabbè vi devo fare delle gioche è vero quindi un cazzo allora guardate qua incredibile Sebastian è un adolescente che aspetta i suoi genitori per tornare a casa durante una fredda notte di Natale presto capirà che c'è qualcosa di malvagio in agguato vivi il viaggio di Sebastian in un mondo surreale come nessun altro ma andiamo a vedere il trailer andiamo a vedere il trailer di questo giochino fermi RGL Studios presenta solo a me lag si alone a cold christmas night anything can happen guardate che meraviglia questo gioco trash e indie qualcuno fuori dalla finestra Sebastian se ne accorge Sebastian chiama subito chi di dovere ma chi di dovere non risponde una notte fredda in casa un estraneo una torcia la luce salta in mano abbiamo un phon non so per quale motivo le persone volano le renne sulle scale borca troia cos'era? discover a mysterious world like no one else eh? incredibile 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 mortuari dai ma ragazzi prima guardate finite di vedere il trailer non giudicate dalle animazioni di merda e dall'ambientazione ma perché a voi non piace il Natale perché a voi non capite buon Natale quindi? io non vedo l'ora che arrivi l'inverno ragazzi anche perché sarà mio compleanno c'è il sondaggio dopo basta scrivere il nome del gioco Pietro esatto ascoltate tutti Pietro Pietro fai partire il sondaggio dai come come non sei moderatore? beh da oggi le cose cambiano fate Pietro moderatore e fate partire il sondaggio gioco dell'anno attenzione dai su fate partire sto cazzo di sondaggio scegliete ragazzi tra mortuari e assistant e appunto questo qua Krampus is home una roba di nicchia capibile è un po' come il buon vino il buon vino si sa fa cagare e costa di più eppure la gente lo beve che gioco? scegliete 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 dai votate votate già una persona ha votato mortuari abbiamo un 85% che vota mortuari Krampus sta salendo 41% attenzione 70 votazioni per Krampus rimaneva mortuari 116 la gente che in chat scriverà come cazzo si vota continua a ripetarlo mille volte dovrebbe comparire alla tendina siamo un manditore d'asta texano siamo a Krampus per 45% 161 mortuari 196 54% 46% per Krampus attenzione qualcuno rialza qualcuno rialza 215% per mortuari ci siamo eccoci qua 55% per mortuari non ce la facciamo Krampus Krampus 45% qualcuno per Krampus qualcuno per Krampus qualcuno per Krampus per favore nessuno per Krampus mortuari 1 mortuari 2 mortuari 3 beh bisogna ancora aspettare 10 secondi per la fine del del pronostico continuate a votare continuate a votare per favore attenzione attenzione 221 voti per Krampus 221 voti per Krampus 56% ancora rimane mortuari S incredibile volete vedere sbucciare i corpi volete andare avanti con la storia probabilmente ma non volete scoprire una nuova avete il culo comodo siete quelli che su Netflix guardano sempre le stesse cose mortuari ha vinto mortuari col 53% 305 voti credibile credibile verrete giudicati per questo da me certo ma giochiamo giochiamo a quello che avete scelto sia Krampus sto scherzando allora giochi via quindi mortuari dove cazzo sta? qua mortuari assistant via dobbiamo fare la campagna principale la storia però dove cazzo ci farà partire ragazzi io non mi ricordo più niente e c'è Andrea e c'è cazzo Andrea anche quando non ci dovrebbe essere Andrea aspetta che elimino Andrea Andrea non c'è più magia sembro il Joker il voto era per quale volevate fare fuori attenzione twist sei saggitario? no sono nato a Natale quindi sono capricorno sono una persona saggia decente modesta anche continuiamo? e continuiamo cazzo facciamo un'altra volta Krampus tranquillisi perché quel gioco c'è l'analista adesso parlo super veloce scusate ce l'hanno alla lista desideri di stime da una vita e l'ho acquistato da una vita ce l'ho lì ce l'ho lì non l'abbiamo mai giocato oggi stavo guardando e ho detto ma si dai facciamoli votare magari scelgono un gioco nuovo e invece eccoci qua bentornati facciamo che lì non ci passo allora con molta calma cosa dobbiamo fare? Federic Long come? si si Federico Polmone il nostro ah vedi avevamo già usato quale robe figa ma non mi ricordo ragazzi voi avete memoria? facciamo Krampus no ormai ragazzi avete scelto questo mi dispiace mi dispiace e non mi ricordo che cazzo dobbiamo fare allora quanti ne abbiamo sbucciati? live un ciamaccio ah ci manca l'ultimo che cazzo sta succedendo? is this the ultime man? yes allora però io non mi ricordo quanti simboli abbiamo trovato ne abbiamo trovato uno ma perché continua a sbagliare tasto? eh perché no fermi buoni 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 un po' d'ansia ecco un po' d'ansietta c'è c'è sempre ecco l'ansia che rimane che cazzo devo fare? che cazzo devo fare? ah si dobbiamo dobbiamo analizzarlo calmi fermi buoni io ho paura che qualcosa sbuchi da lì oggi ho più ansia del solito rotate e via che ci siamo allora dobbiamo cercare di fare il finale della storia quindi cercare di liberare tra virgolette o no il demone questo sorriso quel maledetto sorriso che mi ha fatto innamorare di lui questa è la storia di come mi sono innamorato del cadavere di tuo papà e come facciamo qua? attenzione calmi non mi fido di lui però quegli occhi quei dannati occhi qua c'è? niente adesso c'è lo spararagnatele di spiderman twist there we go quindi l'abbiamo ampiamente modificato perfetto altamente esaminato andiamo a inserire i suoi dati nella gratella clinica non me lo fa fare ah no ma cazzo mi hanno fatto uno dobbiamo fare no ma cazzo ancora qui age 51 un rush sulla spalla destra una blemish sulla spalla sinistra ormai ragazzi vado in automatico ormai ogni che cazzo ho sbagliato? oh vedete non sbaglio mai porca di quella allora adesso io minca ah no perché questo è il braccio fermo oh ce l'abbiamo fatta chi è? pronto? oh merda no 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 va tutto bene no non c'è bisogno non c'è bisogno di uccidermi non c'è bisogno di non c'è bisogno di uccidermi faccio da sola buoni buoni come non lo so stavi cercando la casata del demone sui post-it ah già 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 bravi bravi cazzo bravi ok abbiamo disegnato qualche minchiata io non capisco che scuola d'arte abbia frequentato fatto stacchi sicuramente per alcuni là su internet beh ma io non sono neanche in grado di fare uno stickman ragazzi fate voi chi l'è? cp jindb grazie azzu sai che ringraziare non so leggere il tuo nome siamo ancora qui? ah si devo mettere la cartella clinica qua ma pare stia andando tutto bene furono le ultime sue parole madonna allora l'hanno studiata bene gli sviluppatori perché sono dei pezzi di merda nel senso ci sono due corridoi in sto cazzo di gioco e sono messi in una posizione strategica perché devono essere percorsi entrambi per arrivare là dove devi arrivare per completare il tuo obiettivo e gli oggetti appunto cioè e i jumpscare appunto si sa che si concentrano lì nei corridoi eppure ne ho avuti pochi di jumpscare nei corridoi cosa vuole dire? ma quello non era un gioco come gli altri allora io sto prendendo tutto necessario ho sentito un suono no 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 ma la porta era aperta che cazzo è? no fermi basta fermi kamil grazie mille kamil lomir cassetto chiudiamolo ancora ci si ci inciampa dentro ok abbiamo un po' di roba ah abbiamo preso le monete che ci servono poi se dobbiamo fare la cazzina questo dovrebbe essere necessario per il collare dovrebbe essere il collare il ciondolo dovrebbe essere per sempre per la storia principale non mi ricordo più ragazzi l'ho droppato ho droppato l'item più importante per terra dovete aiutarmi perché non mi ricordo un cazzo abbiamo giocato sto gioco una settimana fa quindi eh e voilà e voilà è positivo il fatto che nei videogiochi non possiamo sentire alcuni dei sensi ossia il tatto e l'olfatto eh che dite quindi se qualcuno ci grabba da dietro finchè non lo vediamo noi non lo sappiamo in questo preciso istante il demonio potrebbe testare la nostra ecco sostanza ah mancano l'eye caps ma scusa non l'ho preso io mi muovo all'indietro con calma l'eye caps dovrebbe essere qui un esperto mi dicono l'eye caps eccolo piano 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 uno due voilà voilà a posto questo è andato incredibile so esattamente come muovermi so esattamente cosa fare ma nessun jumpscare come mai jump ah 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 che è stato un calo di tensione tranquilli cioè si è aumentata la mia di tensione ma c'è stato un calo di tensione c'è 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 la luce là dietro madonna 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 ma perché indago ma perché io non mi faccio i cazzi miei ah 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 è la luce perché dovrebbe avere paura buonasera ok ok nessun geriscotti ho vinto ormai mi manca solo un finale quello dove devo aspettare la fine del tempo e farmi avere eh che vuol dire ho capito male io come cazzo sono arrivato qua eravamo nella stanza prima allora mi mixiamo il liquido è tutto aperto lasciamolo così no 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 che cazzo che cazzo succede che cos'è quel simbolo lì c'è il simbolo dell'uscita mi sto cagando addosso che succede ma che è successo ma c'era una faccia non ho avuto paura perché non c'è stato suono né niente non ho visto un cazzo che è successo accadono cose nuove inaspettate nel gioco vedete avevo ragione hanno aggiunto roba gli sviluppatori abbiamo sì allora questo qua dobbiamo bruciarlo ragazzi prima o poi il corpo sparirà sì sì eri morto allora proviamo a vedere se riusciamo a trovare un altro di questi simboli Dino stai laggando sto laggando non è vero ragazzi controllate la vostra connessione internet qua piove da una settimana nel gioco i posti i posti il posti bravi cazzo non l'ho scritto non l'ho aha la L col punto la L col punto e chi ci vuole la L col punto allora però non ho scritto sul post-it la casata cazzo non ho fatto mi dimentico di farlo porca puttana non l'ho mai fatto e quindi la L col punto la L col punto la L col punto la L col punto eccola qui a posto ma le chiudiamo le porte che dici porte e finestre aaaah voilà a posto cosa devo fare no ah si il mix lavoriamo va no e non incomincia attenzione è tornato l'uomo nudo lo sapete come funziona vero o noi andiamo da lui o lui viene da noi credo che io devo andare da lui stavolta sta vibrando e quale dei due jumpscare è quello potente o quello soft oh no oh dio mio i brividi state molto calmi ho voluto fissarlo intensamente si è spenta anche l'altra luce andiamo a vedere che cazzo ah oddio pensavo agli alieni volessero rapirmi boni a posto ho vinto aspetta che c'ho il cavo in mezzo alle palle non devo giocare agli horror di estate ragazzi fa più caldo del solito ah e noi lo lasciamo lì no 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 si il post it vaffanculo va bene con tutto il rispetto ovviamente vaffanculo calmi ok ci sono allora cosa il mix io non vado di là non mi interessa c'è si fa i cazzi suoi io mi faccio i cazzi miei si esce da sotto la porta veramente guarda calmi calmi ok 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 dammi qua ok credo di aver messo tutto a posto a posto esatto ci servono le forbici che non ho giusto ce le ho le forbici non ce le ho a posto mai dargli le spalle mai dargli le fottute spalle ok ecco qua il tubo mi serve il tubo mi serve il tubo me dimentico sempre il tubo il merdosissimo tubo ho vinto che cazzo è pensavo fosse una bicicletta un manico un manico un cosa da bicicletta Andrea è finito così la prima volta che ho provato la bicicletta l'abbiamo ritrovato così è stata una lunga storia ragazzi e io mi levo in dettaglio e mi levo angolo dell'invincibilità perfetto io con la porta lì non la apriamo più facciamo tutto il giro piuttosto no è finito con un tubo in gola ragazzi è stato particolare sta bene sta bene sembrava il il manubrio di una bicicletta di quelle biciclette fastidiose quelle che ogni buca che prendono suona il campanello per errore il fastidio il fastidio ti voglio di raccogliere una roccia e lanciargli la contro chiudi la porta quella davanti no preferisco avere una visuale la salta fossi bellissima l'angolo dell'invincibilità non funziona il tipo bianco può arrivare lì davanti grazie Denki per lo spoiler grazie per l'ansia oh 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 c'era un suono diverso dal solito sentivo una specie di pss turn off the pump che cazzo succede che cazzo è ah però ci si divertiva si ma questo era il nostro passato minchia Jesse Pinkman prendi il tuo kit te che quale kit no 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 il kit per che cosa per drogarsi ma lo vendono su amazon kit base ho cercato il kit per fare la birra perché Andrea fa dai compra il kit per fare la birra non costa niente 1200 euro dove devo dove devo dov'è il kit è questo kit di eroina questo è un kit ragazzi per diventare una super eroina come potete vedere perfetto my kit questa contrapposizione tra il tra il 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 c'è qualcosa in acqua Figa Non posso aprire No, 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 no Cosa succede? Che cazzo succede? Orca puttana, è ancora lui? Ah, forse dopo che è morto abbiamo iniziato a intraprendere una strada di errori Come quella che ha interpreso lui, perché per venire a cercarsi scivolato ed è morto Ah no, però aspetta, è morto dopo che abbiamo fatto un incidente in... Vabbè, abbracciamolo Eh già, lo so Ehi, signorina, no, 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 no Ah, 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 ah Mi sono ricordato del post-it, eh? E mentre sentiamo le voci Questo è stato un trip pesante, ragazzi È stato un trip pesante Quindi, in sostanza... Allora, la mia idea che mi sono fatto della trama è che lui si è morto Successivamente, dopo che ha cercato di salvarci in una delle nostre tante serate scazzo Non ho mai capito se era il nostro padre, il nostro ragazzo Non ho mai capito che cazzo era Chi era? Viva il culto del totem Perfetto Ah, è il padre quello? Ho capito Ed è diventato padre a quando? A 12 anni? Da lì il film 12 anni padre Che succede? No, eh? Il tempo, il clima È una di quelle triste storie che si trovano su real time Ho già fatto il post-it Hai provato Madison? Già portato Fa cagare, noia pura Allora, andiamo avanti Basta blastare Cosa devo fare? Sì, qua Cosa? Missing something che? Missing something un cazzo Ho preso tutto Il bisturi l'ho preso No, non ce l'ho Strano Strano Ma come? Ma cosa cazzo? Ah, sì Il... Ah, giusto Ah, giusto Ah, 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 ah Ho il controllo Ma perché continuo a fare sta cazzo di strada in questo modo? Madonna, santa, madonna Et voilà Presa, presa Ho preso la busta Frank, grazie mille la tua vallala Era David Bowie il demone? No, non credo Non c'era la stessa eleganza Allo stesso portamento Incredibile come si è finita di imbalsamare i cadaveri dopo che il ragazzo è morto Perché la vita è cinica Ironica Non si infila Ma ha un ombelico osceno Ok, però no Sondaggio Chi di voi ha l'ombelico osceno? Che è stato? Non voglio Non voglio saperlo Che cazzo è stato? Dicevo Chi di voi ha l'ombelico osceno uno di quelli che esce fuori? Oppure una persona, insomma, con una certa normalità è all'ombelico indietro? Tranquilli, non stiamo ovviamente discriminando nessuno Semplicemente si tratta di conoscervi un po' di più Vede la gente morta La tocca pure, quanto pa' Si si è offeso E beh, ragazzi, ha un brutto ombelico Cioè, non ha l'ombelico È una cicatrice, ma non c'era l'ombelico Non so cosa li abbiano fiato Ha fatto una tracotomia da lì Occhio dietro Perché mi sono girato Allora Mix cleaner in the bathroom closer to create tanks bla 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 Ma se io vado a cercare un altro simbolino Che dici, eh? Tanto non abbiamo un cazzo da fare Più o meno Oh Cristo Oh, che spavento Figa Laccetti di merda Dov'è? Aè, aè, aè Aè, sera Sera, sera Signorina Eccoci qua Che cazzo è con la roba lì? Come faccio a identificarlo? Una chiave di violino Che non sembra un violino Non sembra una chiave È una D al contrario Una B al contrario Quindi una D Con due puntini Quindi la B che sembra una D Con due puntini Via Un microscopio Geniale Il microscopio Scopio Il microscopio Il microscopio Il microscopio è qua A posto Ci serve l'ultimo L'ultimo nastro Ma prima dobbiamo andare A riempire nel bagno Il mixer per pulire Il coso per sventrare Ah, è vero Il post-it È ormai troppo tardi Ragazzi Ma oddio Ma contano anche Aaaaa Che cazzo è stato ragazzi? Oh madonna Santa Che suono era No, 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 no C'ho la pelle d'oca No, fermi 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 Stiamo per avere un jumpscare Io ovviamente Non avrò paura Ormai forgiato Dal fuoco di Mil Battaglie No Vabbè Lo sapete tutti ormai Ho vinto A posto Voila Oh hey Ottimo Se vai sul pc E vai sul nightshifter Potresti già capire Il marchio del demone Di già? Vabbè ma è inutile Saperlo prima Più che altro Ragazzi voglio capire Come andare avanti Nella storia Ok ma l'ha segnato No, non me l'ha segnato Ma anche Le voci che sentiamo Sono eventi paranormali Da segnare col post-it Secondo voi Sto leggendo Quello che state scrivendo Deliziaci con un frullato Ottimo Tu nel dubbio segna Ottimo Abbiamo i fiammiferi Che servivano i fiammiferi A fare che? Che simbolo era? Allora fermi Cosa ci manca? Ci manca l'ultima casata A questo punto E dobbiamo Apply the mosturizer To the facial Applicare il mosturizer Cristo santo Si guarda veramente Il mosturizer dov'è? E' qua Non mi piace Non mi piace Gira piano lentamente Fai molta attenzione E nulla ti accadrà Eccoci qua Al posto Calma Chiudi sta cazzo di porta Perfetto Ah Prima o poi si sveglierà Prima o poi si sveglia Perché hanno il sorriso questi? Gli infilo il mosturizer Nel naso Oh Ancora No Ho vinto Quanto rompono sti demoni? Bene Che è stato? E' lui Dino? Siete sicuri? Da questo piccolo dettaglio Pensate che sia lui? Non credo Non lo so ragazzi Perché ogni volta che mi dite E' lui E' lui E' lui Indovinate un po' Non è lui Attenzione sta succedendo Sto svalvolando Ok Stiamo pian piano delineando Quelle che sono le figure Le forme Del nostro marchio Della casata Del nostro demone Però Ne approfitto Perché a sto punto Andiamo a vedere Ehi che dici? Ehi? Andiamo a vedere Che è sto suono? Non mi piace per un cazzo Se si alza il corpo Veramente Vado a stringergli la mano E dirgli complimenti Sei recidivo Allora Immolation Qui abbiamo effettivamente La L Il microscopio E Oddio Potrebbe essere Telduk Ma noi dobbiamo fare Il finale giusto Però Il finale giusto Aspetta Allora La T La L E il microscopio Ho sbagliato Scusate Il finale Giusto E l'altro Ma andiamo a fare un salto Dalla signorina? Vai da quella giù Eh infatti Stavo per dirlo Andiamo a fare un salto Da lei va? Tanto chi cazzo Eh il tempo lo abbiamo A quanto pare Manca un simbolo Sì Ma scusa Mi è venuta in mente Una domanda Ma se io C'è una fessurina Qui Non posso chiamare aiuto Comunque complimenti ancora Agli sviluppatori Carino sto gioco Sembra Sheldon Cooper È vero? È vero? Eh sì Non è un cancello È un ponte elevatoio Elevatoio Allora io vado Eh Attenzione che si scivola È Cristo Vede È santo Ok la signorina È ancora lì Per un attimo Ho visto un'altra faccia Sì Signorina Oddio 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 No Non pare Si Via Fuori dai Coglioni Le visioni Le visioni della signora anziana Le abbiamo sempre di qua E qua c'è la porta per il Per il semi interrato Coincidenze? Credo di sì Credo proprio che sia una coincidenza Le domande a dopo ragazzi Starfield Metro Exodus Domande le quali ho già risposto Però rispondo per i nuovi Non c'è problema Le rispondiamo dopo ragazzi Non mentre sto giocando Perché io due cose insieme Non le so fare Sono solo un uomo Maschio Tra l'altro Quindi Dobbiamente Boni La porta perché è chiusa? Perché l'ho chiusa io Ma questa lavagna Che cazzo serve? Porca di quella Ma perché si apre così? Si dovrebbe aprire Dall'altro lato Dall'altro lato Madonna 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 La pace di senso Io voglio questo Come Screensaver del mio pc Ah dobbiamo ritornare Ritornare il cadavere Riturniamolo Ma è un rettiliano Ah Gli occhi da gatto Che schifo Ma è per un effetto dell'ombra? Che cazzo è? Perché vibra poi? Ah no Ok Era un effetto Era un effetto No C'è un rettiliano Si apre gli occhi Do una testata Ragazzi È difficile È difficile Spostarlo Ok E Federico Polmone È andato Chissà di cosa è morto Domanda tecnica Oh Mettiamoci qua Per un attimo A pensare Prima o poi qualcuno Aprirà gli occhi La cosa della cenere Esatto Volevo chiedervi quello La devo fare adesso La devo fare dopo Secondo voi Usa la cenere E i fiammiferi Per trovare l'ultimo simbolo Non uso il Il robo Siete sicuri No ma attenzione Perché con la cenere E i fiammiferi Non troviamo il simbolo Troviamo direttamente La casata del demone Prendi la cenere Se non l'hai già fatto Allora la cenere La prendiamo su Perché ci serve Effettivamente Sempre che io Abbia tempo di Perfetto Che cazzo Ma perché Mi impanico da solo Va tutto bene Quindi sta cazzo Di porta C'ho l'ansia C'ho l'ansia Con l'h Usala dopo La usiamo dopo Il nome l'ho già trovato È più o meno Abbiamo l'ultima signorina Chi è? Brett Pam Vediamo un po' Com'è fatta Sta signorina Beh ragazzi È il 2022 Dai Non giudichiamo Magari si identifica In una signorina Io che cazzo Sta ridendo anche lui Come gigola il corpo Si chiama Beth Scusami eh Ah Brett Pam Brett Fam Ma i genitori All'anagrafe Che cazzo è Come Come Gli hanno scelti i nomi C'è nel senso Ci hanno provato almeno O hanno detto al tipo Schiaccia roba a caso Sulla tastiera Vedi cosa esce fuori Comunità Facilità Vado alla manovra Eccoci qua Madonna si sta per alzare Adesso mi fa Una rovesciata Che eleganza Chi è che mi ha sfilato davanti Porca puttana No 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 Avete visto Ragazzi Risposte È l'ultimo corpo Ok È l'ultimo corpo Brett Fam Ha 40 anni Se li porta benissimo Questa pelle tirata E lucida Dai porri aperti Dobbiamo capire che cosa fare Chiudi tutte le porte Basta Costruzione delle porte Lo sapete Con quale classe Ti è passato davanti Hai visto Come facciamo Cioè il fatto è questo Io non mi ricordo un cazzo Abbiamo pochi indizi Voi mi avete detto Che c'è un finale Che è quello di trama Bene Come si fa? Perché finchè non succedono I diversi Ah ma cazzo Non ho segnato Deficiente Non ho segnato La roba sul post it Come succedono Come abbiamo visto Ci sono diverse scene Horror Che intervallano un po' il gameplay In quel momento lì A volte ci danno delle scelte E Però devono capitare Se non capitano A me non sta capitando Un cazzo Bene o male Cioè non si piacere Senta roba Taba grazie mille per i 5 E' quello il problema Dino paura Che se chiudi le porte La visione di Rebecca Impiccata non ti spunta Devi darle Le monete Se chiudo le porte Ah dici? E' addirittura Minchia E quindi apriamo le porte Al demonio Twitch contestualizza Piacere Paola Benvenuta Quante volte puoi usare la cenere? Su tutti e tre i corpi Possiamo cattarla su E spargerla E poi accendela col fiammifero E ci dà il simbolo della casata Devi dare le monete Alla Rebecca impiccata E lo so No quello l'ho capito Il problema è che Non mi compare Proviamo a vedere E rispondere al telefono Si mi ricordo Quando si rispondeva al telefono Ci ciava fuori la tipa Qua ragazzi Dobbiamo un attimo Avere un po' di strategia Sennò andiamo avanti A non fare un cazzo In sto gioco E' un peccato Perché alla fine è molto bello Sembra che se Prova a bruciare il cadavere E ancora No 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 A non bruciare il cadavere O a Prova a on bruciare Che intendi dire Lascia le porte aperte Va bene Ed è con questo Incredibile Suggerimento Suggerimento Che io direi Ci siamo Ragazzi E' arrivato il momento E' arrivato il momento Tanto atteso In cui aprirò Tutto Ok Prendo il rossetto Che c'è in macchina Disegno un pentacolo Per terra Premo anche la porta Della macchina Vaffanculo Mettiamo il vaso Al centro Perché si Perché mi va Io sto andando Troppo spedito Calmi Buoni Fermi Ok qui è tutto aperto Questo me lo porto dietro Che cazzo è stato Chi è Non ho letto Oddio ho visto l'ombra del vaso Per un attimo Ho stretto il culo Lo mettiamo qui Eh Dico Si può mettere dritto Oddio inquietante Più che altro Il fatto che io Ma se lo colpiscono Ah ci passo attraverso Inquietante più che altro Il fatto che come potete vedere Io abbia la telecinesi Porca di quella puttana No Lo sapevo il vaso E' il vaso il colpevole Dove sto andando Dove sto andando Succede Ci siamo Disegna la gretina Disegna Disegna la gretina Non disegna Chi è Non riesco a leggere Grazie Carlotta Per i cento Per i dieci Non mi disegna niente Ragazzi Non mi disegna niente Con la visione Oh madonna Oh madonna Io ho paura Di andare di là E quindi di là Non andiamo Non disegno Ah Che Qualcosa ha ringhiato Oh però aprire tutte le porte Ha funzionato Eh Ma non mi disegna Ragazzi Ma Cristo ha ringhiato Prima Gesù Che mi racconti Ehi sai com'è Degli scazzi col babbo Dino vai in sala operatoria Va bene Va bene mamma Ok ci siamo Ci siamo È una di quelle cazzine Scusa dov'è il bagno In fondo a destra Classicone Vabbè l'abbiamo già fatta Sta roba C'è la tizia in fondo La tizia poi mi compare in faccia Ah gli do le monete Stavolta Ci sono delle frecce Con una croce Per terra Ottimo Mi giro Mi giro Giusto per Ah È uguale 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 Se mi tro... Echalala Signorina Oddio Ah È indietro di me La porca di quella puttana vacca Quello è un classico esempio di arte moderna Un murale Si ragazzi giovani lo fanno Ogni tanto si spogliano Si attaccano al muro Si fanno fare poi quella che è una verniciata E dopo si ottiene quella che è la serigrafia di se stessi Questo con questo si intende imprimere se stessi sulla parete Ragazzi questa è arte L'ho studiato per anni Ma che ne sapete voi? Buono quindi Ah già Non mi disegna niente L'uomo bianco È tornato E il postit ragazzi Non mi disegna più un cazzo Inizio a pensare che sia una ciofeca Sta roba del postit Il gioco ha lagato Merda 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 Mi sa che ci conviene utilizzare la roba della cenere Sapete Il bag ce l'abbiamo con la cenere Ashes Si ce l'abbiamo l'ashes con la cenere E se la applichiamo qua l'ashes Beghi Ora questa qua è una casata però Vedete Ma io ho analizzato il corpo Figa ancora lo devo analizzare Quella lì è una casata Dovrebbe essere Ah no Ah si è questa Gli invidiosi Quindi mi dice che è negli invidiosi in sostanza Giusto? Il demone che sto cercando è negli invidiosi O no? Ha senso? Ma richiediamo le cose Perché va bene divertirsi Però insomma Una certa anche Basta Bisogna tornare un pochino a casa In qualche modo anche Soprattutto Ha tirato un cefone a un cactus Ottimo modo per andarsene Un uomo coraggioso Ha tirato un calcio a una medusa Ragazzi c'è il vaso Adesso ci trovo un uomo Chinato Sopra È l'uomo È il tizio bianco Ragazzi Io non ce la faccio È l'uomo coperto di yogurt Io non lo sopporto Veramente Mi inquieta tantissimo Con quel cazzo di sorriso Cosa fa adesso? Se ne va? Perché gli vado contro? Morca di culo Ok Non va bene 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 Però sta disegnando qualcosa E quel qualcosa Non è la stessa cazzo di casata Che abbiamo qui davanti Pare più questa Non so che cazzo La stia disegnando ragazzi Che cosa mi disegna lì? Con i post-it Che cazzo mi disegna? Sì sì avete la grazia Con la quale Era in Slav Squat ragazzi Se ne è uscito Così come è venuto Il quarto simbolo Dino Lo capiii? Ma ragazzi Scusate eh Quali di questi assomiglia A quello che stiamo disegnando? Cioè voi mi avete detto Che questa Questa roba qua Dovrebbe essere O la casata O il simbolo Però Non assomiglia a nessuna casata Non assomiglia a nessun simbolo Capito cosa intendo? Cioè Non capisco Non capisco Cosa possa essere Quella roba lì Comunque La cenra abbiamo trovata Qui viene fuori la casata Degli invidiosi Andiamo a fare il test Sugli altri corpi E via Mana 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 Io vorrei Mela verde Il programma Con queste Con questo Chiudiamo qua va Con questa simpatica Non posso più prendere niente Perché? Che cazzo è successo? No Posso interagire? Sì E allora perché non posso prenderlo? Ce li ho ancora le ashes? No E allora? Perché non posso più prenderli? Ah forse devo pulire qua Aspetta E come cazzo si fa a pulire qua ragazzi? Dimmi che posso usarla solo una volta Senti apriamo qua va Oh po' d'aria E mo? Disegna la casata del demone che stai cercando E devi trovare il corpo su cui compare la stessa casata che disegna Ok Quindi è un'altra casata ancora però Ah non ti serve a niente Quando il simbolo è completo Game over Ma come? Allora che cazzo lo sto usando a fare? E allora no Usiamo l'altra ragazzi Usiamo il Usiamo il fassolettino E cerchiamo l'altro simbolo Sto cazzo di vaso Sto cazzo di vaso Che è stato? Che cosa è stato? Ho sentito un colpo Forse il finale non dipende dal cadavere che bruci No dipende dal cadavere che brucia Per forza Il concetto del gioco è quello No 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 Sera Ah Biglietto prego Porca di quella Dio Cristo Mamma mia mi sono venuti i brividi a guardare la stampante Non so perché Non si accende più il foglietto Quindi non Mi sa che non Stavolta non ci c'era fuori niente ragazzi Stiamo perdendo tanto di quel tempo Allucinante E ritorniamo indietro Il demone è quel signore Il signore era mio padre Ma puoi prendere altra cenere? Eh no Non me la fa più prendere Ragazzi Che cazzo vi devo dire? Non lo so Non mi fa bruciare neanche più il post-it Il post-it Il coso qua per trovare il simbolo Quindi Allora Casata degli invidiosi L'abbiamo capito La T La L col punto E il microchip Dai Cerchiamo sta cazzo di roba Casata degli invidiosi La T Microchip No Allora La T E guarda qua No Beh non c'è Ottimo Cristo E non c'è ragazzi E questo è un problema Nella casata degli invidiosi Non c'è Non ci sono questi Questi simboli E io continuo ogni volta A sbagliare Tasto Cristo santo No 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 Ehi Un tatuaggio estremo Non rifatelo a casa Ovviamente Quindi E post it Vedi che non va Non tutte Non tutte le cose che accadono Possono essere segnate Le ceneri servono per farti capire Qual è il corpo Eh ragazzi Non l'ho mica capita sta roba Perdonatemi Perché abbiamo già provato A usare le ceneri La madonna Quanto era forte Sto tuono Abbiamo già provato A usare le ceneri Su diversi corpi Ma non è cambiato un cazzo Adesso non posso Cioè non ho mai Il suo marito di riuscito A identificare il corpo giusto Tra l'altro adesso Appunto non riesco Cioè se noi tiriamo fuori Tutti i corpi Ah però buonasera Eeeh Le ceneri Non riesco più Chiuditi va A prenderle Non so per quale cazzo Di motivo Non mi fa più prendere Il pacchettino Per svuotare le ceneri O ce l'ho già E sono rincoglionito io Eh no Ma soprattutto Posso far indossare al corpo La collana Possibile Si è bugato No non incominciamo Forse posso far indossare al corpo La collana ragazzi Magari Non lo so E quello alto e magro Ottimo Ma iniziamo Faccia E' male ragazzo Qua non c'è niente Vediamo un pochino La schiena Oh madonna Andrà dall'altra parte Quattro di cinque Che cazzo C'ha sulla schiena Questo Ok Cosa manca Scusatemi Ne manca uno Ma dove Mmm Ah qua There we go Ho vinto Piano 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 Attenzione Nel mentre Tenete d'occhio il corpo ragazzi Perché sono abbastanza sicuro Che si alzerà Brett fam Che vuol dire pane fonato Testa Aveva Aveva un emangioma Sulla spalla Ha una contusione Sulla spalla sinistra Se è spenta la luce Non voglio guardare Ha una keratolok Keratolisis Uguale per la mano Eh no Una basione media Vabbè Non ce ne frega un cazzo ragazzi E' inciampato E' inciampato su una Medusa Questo l'abbiamo ormai capito Ecco perché dovreste Avere paura Delle profondità marine Qualora decidesse Un giorno di Che ne so Magari Ah 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 Andare Sotto 20.000 leghe Non si sa mai Siate Siate talossofobici Erca puttana L'ho visto Guardalo Guardalo Vedete qualcosa di strano In questa immagine? Lo vedete? Eh È o non è eccezionale? Un contorsionista Un circense Salve Figa lui non lo sopporto Ragazzi Ma è Venom Si Sto quadro A me non piace Porca troia Pensavo Ragazzi Ho sudato freddo Per due motivi E' un gioco horror Mi era perso Di aver visto qualcuno Vicino alla macchina Poi ho collegato Me la stanno Ciulando Ho provuto paura Due volte Una dopo l'altra Poi ho detto Tremo Poi ho detto Vabbè E' solo un videogioco Ma la porta è rimasta aperta Chi cazzo L'ha aperta la portiera? Ah io Sì A posto E' Venom Sì E' Venom Che cazzo è stato Col Political Correct Ho visto Una faccia Ah no Era un riflesso Dio Ok Inseriamo la mascella Così non ci mordiamo la lingua Dopo aver urlato Eccoci Ah 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 A posto Buono Ma Figa Tutto da capo? Non è che io Abbia molta voglia Ah 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 Vaffanculo Ok Un po' alla volta ragazzi Un po' alla volta Ce la facciamo Fastite Sgancia qui Questo lo prendiamo dopo Iniziamo a fare Ah 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 Iniziamo a fare questo Basicamente ha aperto la bocca Prima stava sorridendo Adesso ce l'ha così Ok Ok Quindi in sostanza Mi avete detto che Quando il disegno Sul post-it Arriva alla fine Noi siamo morti Probabilmente perché Quella è la casata Oh madonna È la casata Del 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 De Monji La Ecapse Porca di quella Sto correndo Perché ragazzi Stiamo perdendo Troppo tempo Tanto ormai Sono esperto Nell'imbalsamazione Il nostro faraone Qua avrà degna sepoltura Ve lo prometto Ok Proviamo ad usare Sto cacchiarola Dov'è Per capire Qual è il simbolo Magari stavolta Ciccia fuori No No Ancora E ignorala E se la ignoro Madonna Se la ignoro Che cazzo Se la ignoro Mi viene il jumpscare definitivo Ragazzi Voi non avete capito Come funziona il gioco Se io non faccio la strada Scelta da loro Sono fottuto Non mi fa disegnare un ca Kubrick Guardate che meraviglia L'inquadratura C'è l'ombra lì Ha spavento io È chiusa Pezzo di merda È chiusa Guardala Sì Erano aperti Prima Quell'immagine Nera È Rebecca Che chiama Rebecca Se hai notato Dino Assolutamente Sono uguali Guarda Si vede Niente Devo E andiamo No Figa no Sì Sì Dove cazzo Mi tro Ah Ho paura Ah Oh Ehi Sta funzionando Sta funzionando Sto perdendo Che cazzo C'era una No 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 C'era una faccia C'era un'altra faccia Sta funzionando Sto perdendo Eppure ho vinto Fermi 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 Riconosco quel marchio Riconosco quel logo Ci siamo Ci siamo Ci siamo È questo Yes Ok è questa casata Desolazione Ottimo Ottimo Attenzione L O T È questo qua Ok Fermo Fermo Quindi ci serve Sta roba Giusto Sì 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 È questo Ragazzi Oh no Potrebbe essere No no è questo Perché c'è la T La L lunga C'è la L Che cacca Che cos'è Non so che simbolo sia Però devo rifarlo Nello stesso modo Allora Questo qua Va qua E questo va qua Giusto Non mi ricordo No questo va qua Allora aspetta Che cazzo sto combinando Non ne ho idea Il telescopio era a destra Forse Il telescopio era Dove cazzo Rola è Il telescopio era in alto La T a sinistra Ok Il telescopio era qui Il microscopio Scusate E poi sulla destra C'era la L L lunga Giusto Esatto Quindi è fermo Fermo crestando Ce la potremo fare Ragazzi Mo Qual è il corpo Però E' qui Che non ho capito Il gioco Come cazzo Faccio identificare Il corpo Mi state scrivendo In mille Il corpo Come pare La stessa casata Dei simboli Che hai Trovato in giro E' quello giusto Quindi è lui Il bro bianco Perfetto I simboli del sigillo Ti dicono il nome del demonio E quindi della casata Ogni corpo appartiene Ad una casata diversa Ma no Ma scusami Ma non avrebbe senso Cioè Magari è così Molto probabilmente Però non ha un cazzo di senso logico C'è scritto che solo un corpo E' stato indemoniato Impossessato Mo tutti i corpi appartengono A una casata Ma che cazzo minchiata è Ogni corpo Ha una casata diversa Quindi se questo corpo Appartiene ad una casata Che però non corrisponde Al tuo sigillo Vuol dire Che non è il corpo giusto Controlla Se negli altri E' comparso il simbolo Quale sportello Sbatteva Quello del Ah dici che lo sportello Era No ma non credo Segui il tuo cuore Perfetto Sto leggendo quello Che state scrivendo E' quello che ti appare in piedi Il tipo del jumpscare Appena avvenuto Ok quindi è quello lì Perfetto Allora ho capito No No Ho schiacciato exit Porca troia No Ti prego dimmi Che mi fa continuare da lì Ti prego per favore Non mi fa rifare il corpo Ragazzi è stato una roba Un lavoro del subconscio Il cervello ha fatto per me No Vabbè E sarà sempre fermo Non ci posso credere Non ci posso credere ragazzi Non ci voglio credere Ma come cazzo E sono sempre quelli Fermo Sì è sempre lui Come cazzo si fa No 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 Era qua Era qua Era qua Questo era qua Giusto Come di cazzo E prof dollars e se non E no il microscopio era in alto E no il microscopio era in alto Vedi La L era in basso La L era in basso Il microscopio era in alto E io li ho messi al contrario Che cazzo di problemi ho Ok E qua ci va Dove cazzo sta Cos'era questo No Non mi ricordo più Questo È giusto È giusto così L'ho fatto giusto No non l'ho fatto giusto Perché sotto non è la L Sotto è quel ragazzo di roba È lo svirgolino È questo qui Ma non posso scambiarli Perché devo far sta cacata ogni volta Cosa Che cosa ho fatto Dov'è Qua Tu vai qua A posto Dimmi per favore Che è giusto stavolta Perché la quinta volta che mi giro Mi piglio un jumpscare Sì stavolta è giusto Take Marco Abbiamo preso Marco Vedete Minchiae Vabbè Allora sappiamo che il tizio è quello Bruciamo il corpo E vaffanculo Stai sul corpo Da casa al team Quindi puoi tranquillamente finire È lui no Ah I can't use that here Ah cazzo Devo per forza finire il corpo prima Perché mi serve Ma che due coglioni No Devo ancora esaminarlo Ragazzi Vabbè è quello lì Abbiamo capito che è quello lì Il problema è che devo ancora esaminare il corpo Mi farà fare tutto da capo Figlia Che due coglioni Se la possiamo fare Allora Ma mi ha resettato Ah no vedi Ah 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 Non mi ha resettato un cazzo Attenzione Datemi un po' Di tempo Un po' Di pazienza Facciamo finita di nulla Ho visto una roba Sulla luce Nel corridoio A posto? E fa Ah 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 no Vedete la Vedete la mia Guardate Vedete Vedete dove sono io Siete pronti? Guardate C'è gente in vacanza Che sta talmente tanto Sul lettino Che poi si ritrova così Con gli occhi Completamente ustionati È andato Vabbè Il marchio ce l'abbiamo ragazzi Dobbiamo solo depositarlo Sullo stronzo Però io Mi sa che ho fatto una cagata Perché adesso Appunto Esatto Lo stronzo Devo per forza Tenerlo in mano Ma se il marchio Lo gettassi lì vicino Ai cadaveri Sarebbe un po' più facile No? È geniale Porca di quella Non posso dropparlo Ma porca di Questo è perché Non mi ricordo Che cazzo devo fare Una Ancora Sta stronzata Senti Facciamola veloce ragazzi Sappiamo già Che cosa dobbiamo fare Dai Via Via Per forza La dobbiamo fare Sta stronzata La dobbiamo fare C'è la signorina Lì in fondo Dai 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 Lo sappiamo già Non possiamo aver paura Godiamoci l'istante Ah Ok E' dietro di noi Come cazzo siamo arrivati qua Ehi Questo non era mai successo Uh Questa è nuova ragazzi Quindi in base a quanto andiamo Si è spenta la luce nel corridoio Ottimo Quindi in base a quanto corriamo E come ci muoviamo Ah no sarà randomico Sarà randomico immagino Perché noi in questo momento Avevamo tipo delle visioni Stiamo vagando Ad occhi girati al contrario Ad occhi girati al contrario No 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 Porca di quella puttana Centi ragazzi No Centi Dicevamo Purtroppo dobbiamo fare Tutto quanto da capo Ragazzi Sulla testa Oh Oh Che? Che vuoi? E' giusto? Oh Si bugga sempre sto gioco E' allucinante La spalla L'altra spalla Questo No Questo Poi mi spiegheranno Perché ripeto Le parti del corpo Nello schema Qua siano messe Completamente A caso Senza un senso Logico Stampa 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 Fini il toner Mi sta prudendo tantissimo il piede Ah Vedi dove sta il problema Di base Fondamentalmente E' questo Che io non sono in grado Figa ragazzi Devo buttare giù qualcosa Via Tanto sappiamo già Che cosa fare Credo più o meno Merda 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 No Non puoi posare il cadavere E bruciare direttamente l'altro No Non posso farlo ragazzi Vorrei Ma non posso Piacerebbe Ma non si può Non si può fare ragazzi Ve l'ho detto Allora vi spiego Mi serve il carrellino Minchia che ansia Mi sono entrati in casa No Non sparisce So già che jumpscare è questo Questo mi corre in faccia Queste Queste Vedete che non posso Afferrare il Ma vai a cagare va Sai già che cazzo devi fare Cretina Mi versò la rabbia sulla donna Maffangulo eh Vai così L'esperienza L'esperienza Forma E basta Che cazzo è Quella roba lì Adesso No E questo è nuovo No 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 Ragazzi Ragazzi Oh mio dio Porca troi Sì Voglio riporre il marchio Ragazzi Che cazzo è stata È la mia ombra Merda 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 Oh Ma che cazzo Bene Ottimo Segui la linea rossa Perfetto Perfetto Per il reparto gestazione Seguiti la linea rossa Grazie Sì ma ho la mia La mia fottuta ombra Bella Quest'arte moderna Se si muovono Io Tendo a urlare Ecco E ti pareva E ti pareva Ok 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 che devo fare Si sei mosso È più vicino Che cazzo è sta roba Ok Perché devo aprirgli la bocca Va chi c'è lì Fanghetto Come stai Quattro Ah aspetta Ok ok Ognuno c'è un numero Uno Madonna mia Ehi no eh Lo sapevo Lo sapevo Che uno di sti stronzi Era lui Lo sapevo Questo è il quattro Il duo l'ha già fatto Ok questo qua non è niente Non è niente E sei ancora tu Sei ancora tu Ah 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 No Cos'è Zero Ma cazzo Ma c'è uno zero È uno zero Non lo so Non lo so Non ne ho idea Che sto facendo Senti Apriamo tutte le porte Le bocche con i numeri Ah 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 Una volta aperta Non si può richiudere Questi qua senza numeri Figa Sera No ci deve essere un sistema Che io non sto È a fianco a me È dietro di me Si è girato Se Ragazzi vi giuro Che questo si era alzato Vi giuro Ho visto Ho letteralmente visto No 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 Non mi piace Non mi sta piacendo Non mi sta piacendo Un cazzo Tutto ciò Ma porca Fermi In bocca hanno la chiave Come in bocca hanno la chiave De che Ma no Devi trovare la chiave E riuscissi Ma si sono richiuse Non vedo Non vedo la chiave ragazzi Sapete perché Non vedo un cazzo Quello è il problema Principale Sera Questa è l'unica Con un po' di luce Ma non si vede niente L'unico Se cambiano le pose È un po' finita Vedete Quella mi sta fissando Prima Non mi stava fissando Madonna Che ansia Però sono geniali Sti jumpscare Vedete il disturbante Che piace a me Ma dove cazzo L'ha trovato la chiave Ragazzi Sono sei corpi Non mi stava Mamma mia Fighissimo Fighissimo La madonna Che figata di scena Epico No no Sono A di là Grazie Ma cos'è Beetlejuice Ebeneez Scrooge David Whitlow Ah Non era mai successa Sta roba Ragazzi Che c'è Che cazzo sta succedendo Mica che trip Questo è stato fortissimo Madonna Che figata Bellissima Non ho la clipboard Bellissimo Ragazzi Veramente figo Vabbè Allora Depositiamo giù il marchio Ce l'ho? No Dammi la clipboard Perfetto Iniziamo a lavorare Se ce lo fa fare Però Come nulla fosse Tranquillo There we go Buono Cosa mi serve? Il resto Questo Ciao Ho capito Ho capito Ho capito Questo ci servirà dopo Laie capse Laie capse Come ho fatto a prenderlo Quando il cassetto era chiuso? Bella domanda No E basta Ma basta Ma che è ragazzi Ma non si ferma più Non riesco a capire un cazzo Ce la possiamo fare E' un altro finale comunque Dipende Dipende da come va a finire ragazzi Perché comunque sappiamo Abbiamo già il marchio E sappiamo la casata Quindi Dobbiamo concentrarci Più che altro Su quello Poi una volta fatto ciò Il cadavere Lo possiamo Riportare indietro E Bruciare lo stronzo Perché sappiamo già Chi è N'è vero? Ah Sto un po' svalvolando Sto cercando di fare Più veloce possibile Ragazzi Anche perché Non abbiamo molto tempo A disposizione Piano 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 Che cazzo Che succede? Ah serve là Ah ah Ok 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 E' certo E' certo E' certo E' certo E' certo Che cazzo c'ho Tu vai giù Maronna Bella A posto Da il marchio Come do il marchio A lei Perché lo devo dare alla tipa Lo faccio Va beh Fa un culo Lo faccio Non mi faccio più Che cazzo Che cazzo Perché si è aperto qua Ah già si è aperto Prima tutto Sì 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 E' un altro finale E' un altro finale Sì Pare di sì Pare che ce la stiamo facendo Beh però aspetta Ha ragione Ha senso Ha senso Il gioco ci ha dato un indizio Ci siamo risvegliati davanti al seminterrato E siamo entrati all'inizio del Del trip D'acidi Nel seminterrato Quindi ha senso che noi ritorniamo nel seminterrato Che suono è stato Che suono è stato Signorina Il marchio Se non ho preso Il marchio Non ho preso il marchio E' come quella volta che sono andato a scuola Mi sono seduto Finalmente mi sentivo Anche un pochino rilassato Alleggerito Dopo 18 minuti di autobus Alle 7 del mattino E poi mi sono ricordato Mi sono Mi sono accorto che Non avevo la cartella E' la stessa situazione Prendi Marco Ah Ah E' stato un momento particolare ragazzi Ma la sono cavata Nel senso che non m'hanno M'hanno capito Mi hanno detto No vabbè Succede Capita Sto andando speditissimo I can use that here Che cazzo La luce Dove lo metto il marchio Ragazzi Bugiardi Butta la terra Veramente Sì no lo so che c'era scritto il codice della cantina Devi parlarci Non serve qui sul corpo morto Della persona impossessata E niente Non posso parlarci Non mi viene fuori niente Non mi viene il prompt E o altri tasti Quindi mi sa che è andata Io sto correndo Non so se state notando Sì Chi ha parlato Guarda Me ne sbatto Con tutto rispetto Eh ma porca puttana Ragazzi Non posso mantenere niente In mano Rimettiamo il marchio qua Me l'ha tolto Sì Ah C'ho un po' d'ansia Quanti cazzo di bug C'ho Ne ho uno Ne ho uno Bene Bene Dammi questo Ah Fa un po' paura Tatuaggio Con la tecnica Della cicatrice Magistrale Ma ragazzi Non so se mi stavano perculando Magari semplicemente Non lo sapevano E hanno dato un'ipotesi Torna dalla tipa L'hanno definita troia Però Ognuno c'è il suo Era per darti Il codice della cantina Ma tu l'avevi già Devi aspettare Rebecca Ne ricordi Ah devo proprio aspettare Rebecca Per fare l'altro finale Ma che stronzata è Mi manca da Miscelare lì Che ansia Rebecca Porca di quella puttana Che brutta idea Ah ah A granchio A granchio A granchio Sono le 23 Ho visto Attenzione Visto Mi sono girato Non ho girato direttamente A sinistra Ma ho fatto il giro Da destra Perché? Perché è geniale Mi ha impedito il jumpscare Il gioco Il gioco si aspetta Che guardi a sinistra Invece io guardo a destra Ma giro talmente tanto Da poi riuscire a riguardare a sinistra Geniale Il gioco è confuso Vai Ma l'ho già fatto L'ho già fatto L'ho già pulita Devo applicare il nostro riser Ragazzi E poi dobbiamo bruciare L'ultimo corpo Che sappiamo quale cazzo è Ma come scusami Mix cleaner bed from closet Ah Me la sta Me la Me la can Eccola là E basta Ancora? Ma un'altra volta? Ma basta A posto Fatto? Merda 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 Buonasera Vieni che girà Così fai il finale buono Dove sono? Che succede? Ah no Quello di prima C'è il tipo? No Beh Non c'era il jumpscare Alla fine Il gioco impara Il gioco cambia Ragazzi C'ho da applicare Il mosturizer E io qua L'ho finito Lo strunz Cioè Questo è pronto Capite? Non stavo schiacciando Col tasto Perdonate Ecco qua C'aveva il naso Un po' sporco Ma chi cazzo è Che se la ride? Vedete che sta succedendo Qualcosa di diverso? Non era mai successo Che c'erano così tanti Così tanti eventi insieme Però non lo vedo Non so dov'è Mi sa che è partita la musica Quella È partita l'ansia Ragazzi Ci siamo Chi cazzo ride? Sì È partita la musica Ragazzi Ok No fermi Qua dobbiamo capire Che cosa fare Come facciamo? Allora Se metto il marchio Faccio il finale buono Perché sappiamo chi è Bruciamo il tipo Abbiamo fatto il finale buono L'abbiamo già fatto Quel finale lì Devo capire quali sono Gli altri due finali E quello è il problema C'è il finale di trama Mi avete detto Devi dare la moneta a Rebecca Cosa che tra l'altro Credo di aver già fatto Però Mo Ricordati le ceneri Ma abbiamo già usato le ceneri Finendo il tempo C'è un altro finale Non finisce sto cazzo di tempo In realtà Cioè non va a tempo Ti mette solo l'ansia La musica È uno dei finali Non bruciare il corpo Non bruciare niente? E che faccio? La collana cosa fa? Ah è vero Proviamo a vedere Io lo sapevo Che finì Crowdfunding Ci risiamo La campagna del diavolo Mi raccomando ragazzi Stare cimolando un pochino Di soldini Mi stai mettendo un po' da parte Crowdfunding Veloci 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 Dai Ok Questa se la ride È lui 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 Piano Piano Ok 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 Il collare non lo posso usare Ma porca puttana Il marchio Il marchio E se non lo brucio Che senso ha? Dino la collana la devi dare al padre quando compare in video Ma che cazzo È finita È finita È finita Vabbè ragazzi Mi pare di capire Che sia nella merda Poggia le monete sugli occhi del cadavere Giusto E metti anche la collana E non dimenticare il marchio Poggia le monete sugli occhi del cadavere Ah sta roba sarebbe figa Ma non so se si può fare Non si può Però sarebbe stato figo Carina È andata ragazzi È andata Sì è lui Se la sta ridendo È andata Basta Basta Era lui Era lui Era paresemente lui È il finale buono ragazzi Ma che cazzo devo fare È finita È basta È andata È andata Vediamo se è sempre lo stesso Ciuccia fuori lo demonio Eccolo qui Un po' spellacchiato Arrivederci E Magari è cambiato qualcosa Che cazzo ne so Aspettate che leggo questo messaggio un po' confuso Aspettate Aspettate che non ho più il mouse Raimondo A casa A casa A casa Attenzione Attenzione Avevano già fatto sto dialogo No No Non l'avevamo fatto questo finale È un altro finale ragazzi No è diverso È sempre un finale buono Ma è diverso Come è uguale Come è uguale Stai utilizzando il demone Per poter fare il robot Per trovare Le possessioni Bla 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 Dovrebbe mancarti quello del padre A cui devi dare la collana Non può essere salvata E la tortura Ma è sotto Soprattutto Per il vostro Mio 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 L'ho usato L'ho anche Non stopta Da finire il lavoro L'ho usato L'ho anche L'ho usato L'ho anche Attenzione La risposta Te la do Non lo so La risposta La risposta Te la do Non lo so La risposta Te la do Non lo so Non lo so Bisogna dire Rebecca Impincata In randomico Porta sempre Con te La moneta E la collana Di inizio gioco Tutte le volte Che ricomincio Una partita Ed è quello Che mi avete consigliato Esatto Però il fatto Che sia randomico È un po' una puttanata Perché se io voglio Fare quel finale lì Devo aspettare Un momento randomico Sì sì no Piel L'avevo capito Beh ve lo leggo Casomai non l'avete Non l'avete letto voi Giustamente fondente Dice È il finale In cui Raimondo Il nostro caro Raimondo Ha rinchiuso Un'altra tizia Un'altra ragazza Che era venuta qua A lavorare Però era stata Impossessata dal demonio E la sta utilizzando Il suo sangue di serra Per trovare altre possessioni No non si vuole licenziare Ragazzi Evidentemente gli piace È comodo È dieci minuti da casa Capito E quindi Ending 4 Of 5 Buono Quanti ce ne mancano Di finali? Andiamo un po' Ce ne abbiamo fatti tre O due? Tre Ce ne mancano due Quindi Finale cattivo L'abbiamo fatto Finale buono L'abbiamo fatto Altro finale buono L'abbiamo fatto Cosa ci manca Cosa ci manca? Ce ne mancano due Capito che sono le 23 Andrea L'ho già capito Adesso chiudiamo Se infuocassimo tutto Mi sembra plausibile Non si può fare Quello della moneta Avete detto E quello del padre Ok Quindi quello dove do La moneta a Rebecca E quello dove do La collana al padre Dando la collana al padre Probabilmente estirpo I peccati dal mondo Non si capisce come Il demonio dice Beh sai che c'è Me ne vado Non servo più Vabbè Mancano i due segreti Ma mi sa che erano Un po' tutti I finali segreti Un finale Dal momento in cui Non lo conosci È un segreto Twist Vabbè ragazzi E anche oggi Abbiamo dato Devo essere sincero Questo gioco Rimane sempre più interessante Approfondisce sempre Di ponere Scava nella psiche Dei personaggi Quindi la nostra Rebecca È un'ex tossica Che ha perso il padre In uno dei suoi tanti trip L'abbiamo visto Durante uno di queste cazzine Lei era finita Credo dentro un burrone Il padre la cerca Ed è morto Non l'ho ben capito Francamente Va giù secco per terra Con un buco in testa O è inciampato Dalla collina Per salvarla O il poliziotto L'ha ammazzato Non ho ben capito Che cazzo Si è successo E quindi Niente Lei è un'ex tossica Con dei dieci Cinque anni Di bla 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 Però forse C'è altro Dietro con gli altri parenti La nonna Adesso non mi ricordo Ragazzi francamente La storia C'era la nonna Anche se non sbaglio Che era una tossica Pure lei Credo sia inciampato Minchia ma è inciampato Bene però Era scivolato Su una buccia Di banana No assolutamente Minchia Un momento Di pura ansia Mi è piaciuto Un botto Geniale Quello delle pose Dei cadaveri Dove devi aprire la bocca E prendere la chiave Perché c'era Questi giochi Con le teste Che si giravano I corpi Che cambiavano Che non te ne accorgi Magari lì per lì No È fighissima sta roba Sono quelle cose inquietanti Che ti mettono Di sonno È così che fai l'horror Non lo fai solo Col jumpscare Non lo fai solo Col jumpscare Devi disturbare Chi sta giocando Per questo Mi piace sto gioco qua Poi vabbè Ci sono soliti Jumpscare del cazzo Però è Cosa faccio Vado Non vado Mi fermo Devo fare attenzione Perché magari C'è quel dettaglio lì Magari non lo noto Magari la prossima volta Lo noto Magari non lo notate voi Non lo noto io E quella è la cosa inquietante Giro la visuale Mi trovo una faccia Senza suoni Senza colpi Di pianoforte O di violino Quello è figo Domani c'è Ghostwasher Con Andrea ragazzi Questa settimana Tre horror night Di fila Perché poi Dal 1 al 4 Non ci sono Ricordatevi che Dal 1 al 4 Non ci sono Perché vado Quindi giovedì Venerdì Due giorni Non li facciamo Perché me ne vado In Montagna Tra l'altro Han detto Che in Montagna Dove devo andare Piove Quindi buono Scena col demon E la fontana di sangue Una figata Confermo al 100% Mi è particolarmente piaciuto Un po' di musica Per rilassarci E via No che sto fresco Sicuramente Il cane dorme Comunque uscirà roba Su youtube C'è un finale In cui brucia Un cadavere A caso Senza analizzarlo E Raymond Ti ficca Nella bara Grazie per lo spoiler Vale La Hudson Grazie mille Per i due mesi Tutto valhalla Come mai ti piace L'inverno? Che domanda è? Allora Quando hai caldo Che cosa fai? Prego Rispondete a sta minchia Quando hai caldo Che cosa fai? Ti spogli Perfetto Se hai ancora caldo Dopo che ti sei spogliato Che cazzo fai? Te lo dico io Non puoi fare niente Quando hai freddo Che cazzo fai? Ti copri Se hai ancora freddo Quando ti sei coperto Che succede? Che non hai più freddo Ecco Vedete È un fastidio La quale si può avviare Il freddo Il caldo no Il caldo ce l'hai E te lo tieni No Non parlo di ventilatori Non parlo di aria condizionata No E se hai ancora più freddo Nonostante tu sia vestito È molto semplice Come insegna A re di vivo Buchi un cavallo E ci dormi dentro Ma ragazzi Dal freddo ci si può In generale A parte che è più bella L'atmosfera invernale A me piace di più Sono gusti Poi se vi piace Il mare Il sole Le palme Vabbè Sono cazzi vostri E mi rompo i coglioni Solo a vedere E mi piace Mi piace la montagna Mi piace la foresta Mi piace queste minchiate qua Ho dato una nasata Contro E sono gusti Non è che sento affare C'è chi più da mare C'è chi più da montagna In realtà mi piacciono tutte e due A me la natura mi piace tutta Però vabbè In generale Preferisco l'inverno Come stagione Perché la trovo più Più bella Più romantica Più profumata Non so Mi piace Non in città In città fa cagare La cioccolata calda in faccia Sì sì È uscito il 3 di Destroio Human 2 Lo so Non vedo l'ora di Ghostwatchers domani Siateci Siateci Esatto Poi l'estate cosa comporta Gli insetti Che a me piacciono Ma le zanzare Sono effettivamente stronze Il caldo Il sudore Andiamo a elencare Leggiamo Leggiamo l'elenco La stanchezza L'aridità Bellissimo La sabbia che scotta Perché sai Qua a Milano Abbiamo la sabbia che scotta Dietro lo zerbino Sabbia che si attacca al corpo Perché sai Qui a Milano E le ustioni del sole Le ultime 3 Non c'entrano Com'è L'afa Quello sì però La pressione bassa Minchia Gli svenimenti per strada Eh che meraviglia Le vecchiette che affondano Dentro il cemento caldo Più che altro È la gente D'estate Si rincoglionisce E giustamente Ha voglia di uscire Perché c'è il sole Il sole Ci spinge Ad uscire A farci le passeggiate Magari fa caldo in casa Uno non ha l'aria condizionata Dice Fanculo Ho bisogno di respirare Qua sto morendo Esco E fuori fa più caldo Perché Siamo proprio stupidi E quindi si esce E la gente D'estate Non ragiona Non ragiona Mi consiglio Un gioco Coop Bello Beh quello di ieri Era figo ragazzi Quello sulle backrooms La saturazione è forte Dopo 5 minuti sotto sole Senza far niente Il dolce far niente Adesso vi ho messo sete Non credo Però si Scusate Sono dislessico Si ragazzi Ve l'ho detto mille volte Pesantemente In teoria Quando c'erano le zanzare Ti pungono il sangue Per le uova Quindi ci sono tante Baby dino zanzare Baby dino zanzare Avevo sete Si Buonanotte Chi sta andando Quando Midnight Express Sai che mi sai Che non lo portiamo più Ragazzi Perché è stato un giochino Una tantum Giusto per farvelo conoscere Ma Non è da live Quella roba Carino però C'è una variante Del gioco delle backrooms E quello che costa 15 euro Su steam Dove è più bello Secondo Quello è più bello Secondo me E come si chiama Lori Se Andrea Ieri non fosse Stato male E poi sono stato Un pochino male Anch'io Perché mi è venuto Mal di testa Dopo la giocata Di ieri Per il via Del fatto che Intanto c'era Quel suono di sfondo Bianco di merda Quelle zzz Delle lampade Accese a dei corridoi Nel gioco delle backrooms Sto parlando Che veramente Era una roba allucinante Poi sta visuale Vicina Alle pareti Perché è tutto Claustrofobico Corridoi Tutti questi ambienti liminali Quindi visuale Vicina Ma il fatto è che Ragazzi Troppo veloce Troppo scattante Tu muovi il mouse Un millimetro Ti gira la visuale Ti si fa tutto il campo È esagerato C'è una sensibilità Troppo alta Anche se l'abbiamo abbassata Abbiamo Se giochi un po' Con le impostazioni Te la cavichi Ma è un po' Un po' programmato male Secondo me A quel gioco E quindi Effettivamente A giocarlo Dà fastidio A guardarlo Non oso immaginare Ci sta che magari Qualcuno di voi Ha avuto un po' Di nausette Ci sta A top ten A top ten Rachel Foster Divertenti E divertenti E fottutamente inquietanti Quindi un horror Come si deve Summer of 58 È stata un'amalgama Di 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 horror Di horror Di jumpscare Buttata lì Un po' a cazzo Però l'ambientazione C'era E metteva In quietudine Però troppo Sulla falsariga Di Outlast Questa Telecamera Con la quale Devi filmare tutto Con l'effetto Infrarossi A me caga il cazzo Dopo un po' E Come si chiama L'altro Layer of fear Esatto La Layer of fear Secondo me è stato L'horror più bello Ragazzi Perché la trama Era spettacolare L'ambientazione Eccelsa La Scitica La meraviglia L'estetica Era qualcosa di Veramente Artisticamente parlando Bello Quel gore Che piace a me Quell'arte gotica Col sangue Le robe Bello 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 Veramente figo E poi Era inquietante Era Non Oddio C'era 3-4 jumpscare Me le ricordo ancora Quelle cazzo di bamboline Di merda Però bello Mamma mia ragazzi Quello mi è piaciuto molto Per me la Layer of fear Rimane più carino Call of Cthulhu Non succedeva un cazzo Call of Cthulhu Era un GDR Tip Happy Humble Burger Farm Bellissimo Veramente un bel gioco Però non era Cioè non lo vado a reputare Horror pieno Era più un action Ororifico E mi è giocato Life is Strange L'ho giocato L'ho aperto E l'ho chiuso Dopo 2 minuti Kiska Grazie mille Ruto Valhalla Per i due Perché non mi piace Ragazzi Sì sì esatto Bravo Pino Soprattutto L'Ears of fear Cerca di attaccarti Sul fronte psicologico Sì ti fotte lì A questo gioco Che voto daresti L'Ears of fear Or Happy Humble Scusatemi Alex quale dei due Perdonami L'Ears of fear Secondo me Si becca Cioè Dio dare una valutazione Un po' difficile Per quello che deve fare Lo fa benissimo Quindi ti direi Da me Per il mio punto di vista È un 10 pieno Per quanto riguarda l'horror Perché ha tutto È inquietante Fa paura È bello da vedersi Ti incuriosisce Ha un'ottima trama E dura un cazzo Dura poco Quindi tu non ti annoi A videogiocare A fare una minchia Perché quello È un gioco che deriva È stato sviluppato poi Dai creatori se non sbaglio Di Amnesia Quindi tu devi solo camminare E fare due o tre enigmi Che non rompono le scatole Soprattutto ma che sono Enigmi abbastanza sempliciotti Il gameplay Quindi è un gameplay povero Esattamente come quello di Amnesia Ma diversamente da Amnesia Che si fa le sue 18 ore Questo cos'è Cosa durava? 5 ore L'Ears of fear E poi finiva Oh Così deve durare un horror Oppure come questo Come appunto Mortuary Assistant Che anche lui si becca Sicuramente rientra nella top 10 Dei giochi Dei dieci più bellini Che abbiamo giocato indie Perché secondo me È davvero congegnato È fatto molto bene Bello 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 Anche la randomicità Degli eventi I mostri I jumpscare fatti bene Disturbante Esteticamente fighissimo Bella la storia L'ambientazione Il personaggio C'è tutto figo Tutto film Come mai non ci sono più Le clip di tutte le serate Su Instagram Matt perché ci mettiamo Una vita Io per quella clip Che vedi tu di un minuto O di 30 secondi Ci metto due ore e mezza A fare l'editing Perché è un riassunto Di quello che è successo Adesso facciamo Una clip Della serata divertente Della settimana Quindi esce una clip A settimana O due clip A settimana Perché altrimenti Si è bene Ciccia fuori Se facciamo troppe Horror Night Vengono fuori troppe Clip Horror Se facciamo troppo Troppi Indie Viene fuori troppo Su quel gioco lì Allora anche per evitare Di fare sempre lo stesso Diciamo lo stesso Stesso prodotto Madison fa cagare Ragazzi Dai Fa veramente schifo È noiosissimo Non fa paura Dai E ve lo dice uno Che si caga addosso Veramente Con uno nulla Nei giochi horror Il gioco horror Che ti dicevo Della Backroom Si chiama Backroom's Mass Extinction È uscito il 22 giugno Di questo anno Te lo consiglio Backroom's The Backroom's Mass Extinction Dai poi lo guardo Blair Witch È stata un po' Una mezza delusione The Beast Inside Cazzo Quella aveva una bella trama Quella era figa Alien Isolation Troppo lungo Ragazzi Bello eh Le prime 5 ore Poi È sempre la stessa Cazzo di roba Perché le ambientazioni Sono tutte uguali Hai il mostro Che Ti compare da lì E ti sbrana Ma devi fare La stessa roba Dall'inizio alla fine Pecca di Di Ripetitività Diventa ripetitivo Acqua o vino Birra Che cazzo di domanda è Anzi Whisky Che accompagna dopo House of Ashes Ecco De qua è il gioco In cui mi sono fatto Più risate in assoluto Vabbè Vabbè Poi vabbè Lì I giochi Della Massive Games Sono Trash e basta Visage Non è piaciuto ragazzi Se no L'avremmo continuato E poi nel mente Nel contempo Cos'è Cos'altro Abbiamo giocato Insieme a Visage Che ci aveva preso Che ci aveva attirato Penumbra Bello Dead Space Secondo me È invecchiato malissimo Il primo capitolo Rimane Il gioco Horror The Action Un po' come potevano essere Resident Evil No Quindi è stato Un nuovo Podio Però è invecchiato malissimo Secondo me A rigiocarlo adesso Ti fai due coglioni Così ragazzi Little Nightmares Non lo considero Horror Devil È È troppe robe Non è solo un horror È troppo bello Little Nightmares Per essere definito È un ottimo Gioco adventure Un gioco solo Di enigmi Dino ma se porti Un gioco solo Di enigmi Mi prendo a martellate Le noci Probabilmente Una certa Slender The Arrival Il titolo È eccesso Summer of 58 A me è piaciuto molto Perché ho riso troppo No ma E voi magari Classificate i giochi E va benissimo Giustamente In base all'intrattenimento Di quella serata lì Quindi magari Vi è piaciuto l'horror Perché dite Ci siamo divertiti Un sacco Sì Io concordo Però io sto cercando Di distinguere Tra il gioco Horror Che mi diverte E il gioco horror Che mi piace Perché è già diverso Cioè Ad esempio Ieri abbiamo giocato Il gioco delle backrooms A me stava divertendo Mi stava piacendo Però Non è L'horror definitivo Capite? Quello intendo dire Cioè È diverso Due qualità differenti Cioè C'è il gioco horror Trash Che appunto Può essere quello delle backrooms Può essere quello di Ghost Adventure E c'è il gioco horror Mortuary Assistant Cioè Capite? Sono due cose diverse Little Nightmares È bello Però L'unica cosa È la profondità Del gioco In che senso La profondità Del gioco? Intendi proprio La profondità Della telecamera Eh beh Ma perché È ripreso di lato È un falso È un 2D 3D È un tre quarti Ma è così carino Invece A me piace Boh vabbè Andrà a gusti Amount Sleep Bello Carino Ho recuperato quasi tutti i video su YouTube Si può dire che li hai fatti Veramente tutti quelli belli Grazie Ma c'è ancora roba da giocare Basta che non siano le solite Basta che non mi chiedete Autolust Non mi chiedete FNAF Che mi sono rotto i coglioni Adesso chiederete Porterei Among Us Ma Allora Avevo detto di sì E io non so perché Sono sicuro di averlo portato in live Ma Andrea mi dice No Non è vero Io ho il ricordo Di averlo portato in live Di averci fatto una live Più più live Di averlo finito in live Ma a quanto pare non è vero A quanto pare non è vero Io mi ricordo però che l'abbiamo portato E sicuramente portiamo Among Us Prima che esca Among Us 2 Che Ah no aspetta Among Us Fermi No l'ho confuso con The Wolf Among Us Che pirla L'altro Della Telltale Vabbè comunque Ritornando al discorso The Wolf Among Us Quello della Telltale Sono sicuro di averlo portato Ma non Non è vero Among Us Se lasciate stare Non ho mai toccato in vita mia Dino porta a rodo 96 No io quella cagata Non la tocco più Mi spiace Ma Comunisti Cosa? Lo portate Fasmofobia? Ma secondo voi Se io metto il microfono Dentro il forno a microonde Lo faccio Cuocere un 5 minuti Poi diventa bello croccante Me lo posso mangiare Con i cavi Tutte le componenti Le viti Le digerisco Secondo voi Bendy and the Ink Machine Già portate È stato il nostro primo gioco horror God of War Ragnarok Per tutta la vita E che c'entra? Ma ovvio che Ma è ovvio Dici che diventa morbido Pino? Si ammolla tutto E niente allora Non tira fuori gli oli essenziali? Il grasso Delle macchine The Last Guardian Io buono A Ravel Si lo porteremo Cosa ne pensi The Last of Us 1 e 2? George ne abbiamo già parlato Un sacco di volte Comunque Magari sei nuova Fighissimi Fighissimi Cioè Per me è proprio I giochi narrativi Come Dio comanda Aspetto con ansia Sly Cooper Perché è uscito Sly Cooper? Ma L'aspetti nel canale O hanno annunciato Sly Cooper? Non mi pigliar per il culo Polifemo Perché mi incazzo Non mi date false speranze? Io sto aspettando Che la smettessero Di fare giochi inutili E iniziassero a fare Magari qualche Continuo non remake Delle vecchie saghe Tipo Jack and Dexter Naughty Dog La smettiamo con The Last of Us Jack and Dexter Cristo Sarebbe bello Un Jack and Dexter 4 Che dite? Eh? Minchia Immaginatevi Jack and Dexter 4 Con la tecnologia Con la tecnologia Di adesso Che cazzo viene fuori Immaginatevi Un Jack and Dexter Con la grafica Di un Ratchet and Clank Che è uscito adesso Rift Apart Minchia Ma c'è da svenire Ragazzi Con un bel gameplay Proprio di Jack and Dexter Magari un po' Open map Come era Jack and Dexter 3 Minchia Spettacolare Porta Alien Isolation Ma io che minchia Ho Manant Ma hai giocato Lo conosco Andrea L'abbiamo protato Manant No Forse lo volevamo portare Però Hogwarts Legacy Forse lo giocheremo Insieme Nel senso Che siamo insieme Qua io e Andrea Forse nella stessa stanza Ma sicuramente lo giocherà Andrea Ve l'abbiamo detto ragazzi Stiamo organizzando In modo tale che Andrea Farà delle live pomeridiane Lui ci sarà di pomeriggio Io faccio la prima serata Così avete anche voi Modo di Gestirvi la giornata Con più facilità E Andrea Un pochino più di scena Che è un peccato Ecco Quando comincia The Forest Con Andrea Quando esce Sono The Forest Non si può portare Su Twitch Manant Perché Ma sei sicuro Ma non è vero Non dire cagate Riporta la Retro Knight Con Jack and Dexter Eh Io vorrei anche Un nuovo narrativo Della Nauti Sto rigiocando Un certo di quattro E voglio altro Altro Verdeluz Hai ragione Verdeluz Scusami Hai ragione Anch'io vorrei Roba nuova Allora The Last of Us Sicuramente lo giochiamo Un remake Perché comunque Voglio vedere Come l'hanno Unito Diciamo Al gameplay Del secondo Però effettivamente Sarebbe carino Vedere qualcosa di nuovo Perché io mi sto Già iniziando a rompere i coglioni A rivedere sempre I stessi titoli E mi sono rotto il cazzo Di vedere anche i remake Basta Sono stufo Voglio roba nuova Ma mi va bene anche Che sia un Frostboken Un Ghost of Tsushima Che magari sono giochi Che sai Finché non li giochi Non puoi sapere come sono Però almeno C'è più C'è più pepe C'è una riscoperta C'è qualcosa di nuovo C'è aria fresca E dici Cazzo che figata Non vedo l'ora Che esca Ghost of Tsushima 2 Per dire Capito? Invece l'unica cosa di nuovo Adesso ormai Sono diventati gli indie I giochi 3 plus Sono semplicemente Dei sequel O dei remake Non c'è più niente di nuovo E i giochi nuovi Poche volte Rarissime volte Sono interessanti Che poi non è vero un cazzo Perché a riguardare Un po' quello che è uscito In questo periodo C'è Returnal Che è spettacolare Appunto Ghost of Tsushima Com'è che si chiama L'altro Sempre che ha fatto la Sony Non mi ricordo Vabbè insomma Qualcosa di nuovo è uscito Anche in ambito horror Però sai Nulla di eclatante Cioè Non è stata la generazione Playstation 3 Che ha creato Tutte le esclusive Che poi ci stiamo Ci stiamo portando Dietro ancora I gatti I gatti I gatti Stai i ragazzi Bello Carino Dimenticato Basta Dai Su Che cazzo C'è di speciale quel gioco I gatti Veramente Dovevo ricominciare A questa tiritera Cosa ne pensi Di The Witcher Che ci vediamo Domani alle 21.30 Con Ghost Watcher E Andrea Cercheremo di fare Magari una live Un pochino più lunghetta Così magari chiacchieriamo E ci salutiamo per bene Prima delle vacanze Comunque The Witcher È soltanto uno Il tre Il resto non serve Fate i bravi Fate i buoni Ci vediamo appunto domani Con Andrea Io vi ringrazio Per questa incredibile serata Passate in compagnia Dove abbiamo cercato Di arrivare alla fine Di sbloccare un altro finale E ce l'abbiamo fatta Incredibile Quando le cose Effettivamente Poi Funzionano Sono emozionato Sono emozionato E sono anche vestito Come ero vestito ieri Buonanotte bestiasse Vi voglio bene Veramente grazie E niente Digerite tutto Spero Passiate una bellissima nottata Fate attenzione Soltanto Alle cimici Dei letti Buonanotte